Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Continuiamo con un po' di esempi pratici, di effetti da poter applicare in Adobe Premiere ai nostri video. Nello scorso tutorial abbiamo visto come oscurare un volto, come nascondere l'identità di una persona che non vuole magari farsi riconoscere sfocando i lineamenti del volto oppure mettendo un bollino rosso per evitare direttamente che la persona sia riconoscibile. Nella lezione precedente ancora abbiamo visto come ritagliare una porzione di video. Quest'oggi vedremo altri esempi di altri effetti presenti di default in Adobe Premiere. Prima però vi ricordo, se volete, di venirmi a trovare sul sito internet www.fabioambrosi.it il sito dove troverete tutte le lezioni fatte fino ad ora e l'elenco anche degli argomenti che tratteremo nei prossimi tutorial. Se vi fa piacere iscrivetevi anche a questo canale YouTube così da non perdere i video, i tutorial di prossima uscita. Andiamo avanti. Dunque, questa lezione inizialmente era dedicata alla tecnica per creare un cerchietto rosso per evidenziare una porzione di video a noi particolarmente cara, di nostro particolare interesse. In realtà abbiamo già visto questa tecnica in parte nel video tutorial precedente quando abbiamo parlato dell'effetto genera cerchio. Ricordate, noi applicando l'effetto genera cerchio, lo rifacciamo qui subito, possiamo applicare e generare un cerchietto del colore che noi preferiamo e nella scorsa lezione abbiamo visto come generare un cerchio e poi inserire keyframe per esempio per nascondere un volto. Questo stesso effetto per esempio però può essere utilizzato modificandolo adeguatamente per creare un cerchio rosso. Vedete, io ho modificato semplicemente l'opzione del bordo, da nessuno a aggiungi bordo, bordi, e in questo caso mi viene attivata l'opzione per dare un raggio, uno spessore al nostro bordo. Modificando i parametri adeguatamente io invece che un bollino rosso mi ritrovo ad avere un cerchio rosso. Posso modificare ovviamente la scala, posso modificare chiaramente lo spessore del bordo, posso modificare la scala, e questo può essere utile animando sempre il parametro del centro per seguire un dettaglio, in questo caso per esempio il mio occhio, dell'immagine che a me è particolarmente interessante. Non so, per esempio avete idea di quando durante i programmi televisivi sportivi in cui si riguardano e si rivisionano le partite, le azioni nelle partite di calcio più interessanti, ecco per esempio se uno volesse evidenziare un dettaglio di un'azione, una palla in fuorigioco piuttosto che uno sgambetto di troppo di un giocatore, ecco l'effetto genera cerchio può essere utilizzato per esempio per seguire il movimento di un giocatore, o di uno sportivo, o di una partita di palla a volo, o di qualunque altra cosa insomma. Come animare questo oggetto? Voi lo avete visto, lo avete imparato nella lezione precedente, quando abbiamo animato il cerchio per nascondere un volto, sostanzialmente inserite dei keyframe qui nel parametro centro, e automaticamente potrete seguire il dettaglio che a voi sta più a cuore. La lezione finirebbe qui, però visto che abbiamo ancora del tempo, io ho pensato di mostrarvi altri effetti presenti qui, sempre tra gli effetti nella sezione genera, perché questa è una sezione molto interessante, dove è possibile trovare degli effetti apparentemente inutili, ma che se utilizzati in maniera creativa possono essere molto interessanti. Dunque, abbiamo visto come generare un cerchio, ma posso dirvi fin da subito che c'è la possibilità, ecco che abbiamo un po' esagerato, di generare un'ellisse. Generare un'ellisse ci permette di ottenere lo stesso effetto che abbiamo ottenuto quando abbiamo generato sostanzialmente un cerchio, con la differenza che noi qui lavoriamo direttamente su un'ellisse e non abbiamo il problema dei bordi. Chiaramente i parametri sono diversi, potete modificare anche il colore del bordo e dare un effetto un pochettino più complesso rispetto, per esempio, all'effetto genera cerchio che abbiamo visto nel tutorial precedente. Però il concetto è sempre quello, animando i parametri è possibile, chiaramente, animare anche la creazione e la genesi, per esempio, di questo ellisse. A cosa può servire? Non lo so. Ognuno può trovare l'utilizzo più conveniente all'effetto che ha sotto mano in quel momento. Il consiglio è sempre quello. Giocate con questi effetti, prendete consapevolezza che esistono e che hanno questi parametri, questi valori che è possibile modificare e poi vedrete che quando vi servirà un effetto particolare saprete già chiaramente dove andare a mettere mano. Un altro effetto simile, per esempio, e utile, è l'effetto genera griglia. Ecco, lo rimettiamo così da capire a cosa serve. La griglia sostanzialmente è questa. Vedete? Un insieme di linee verticali e orizzontali che compongono il nostro frame. Modificando al solito il metodo di fusione possiamo rendere quel nero che prima ostruiva la nostra immagine trasparente e creare un effetto griglia in questo modo. Per esempio, vogliamo dare l'effetto di spiare da una veneziana, no? Le finestre... Ecco qua. Per esempio, abbiamo creato una griglia che non è più una griglia solo fatta di linee orizzontali e verticali ma in questo caso, per esempio, può simulare una veneziana. Partendo dal presupposto che, ovviamente, per gli effetti più realistici e più credibili io vi consiglio di utilizzare software dedicati come After Effects. Ecco, però sapete che Premiere mette a disposizione questi effetti di default e quindi giocate con i vari parametri che avete qui a vostra disposizione e cercate quello che può essere il risultato di vostro gradimento. Un consiglio, giocate anche con i metodi di fusione perché non ne abbiamo parlato però sono degli algoritmi che permettono di sovrapporre la nostra griglia, la nostra immagine giocando con delle funzioni matematiche per esempio, in questo caso, sul colore. Non mi addentro nel dettaglio perché è più semplice giocare e sperimentare che, diciamo, spiegarlo con parole povere però ecco, giocate con tutti questi parametri e vedete un attimino l'effetto che aggiungere o togliere un determinato valore porta con sé. Ho un effetto però molto interessante di cui voglio parlare è l'effetto riflesso lente. lo trovate sempre qui nel pannello effetti genera effetti nel pannello effetti nella categoria genera scendendo trovate l'opzione l'effetto riflesso lente. L'effetto riflesso lente permette di fare esattamente quello che vedete questa sorta di alone dato in natura per esempio da una fonte luminosa che colpisce l'obiettivo. Ci sono diverse tipologie anche qui di riflessi lente con cui giocare ci sono anche alcuni per la verità pochi ma ci sono alcuni valori per esempio potete animare questo valore questo parametro luminosità riflesso per esempio animandolo da zero e portandolo non so a 100 o anche sopra potete creare non so l'effetto di una fonte luminosa che all'improvviso arriva e inghiotte tutto quello che trova guardate è apparso un angelo e mi ha inglobato nella sua luce ecco questo per dimostrarvi che un effetto apparentemente semplice come può essere appunto questo del genera riflesso lente se utilizzato nella maniera più corretta nella maniera più opportuna vi permette di creare delle cose anche abbastanza abbastanza interessanti quindi giocate con questi effetti per capire poi l'utilità che possono avere nei vostri nei vostri nei vostri progetti vediamo un altro questo è un altro effetto per esempio è l'effetto genera scacchiera è molto simile l'effetto genera scacchiera all'effetto genera griglia che abbiamo visto prima sostanzialmente io qui ho modificato il metodo diffusione perché di default questo è l'effetto genera scacchiera una vera e propria scacchiera però modificando il metodo diffusione possiamo ottenere degli effetti interessanti modificando e animando soprattutto i parametri potete ecco colorare l'immagine in maniera molto fantastico se è molto 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 artistica potete chiaramente anche farla muovere questa questa scacchiera un altro effetto simile in qualche senso all'effetto scacchiera che abbiamo appena visto è l'effetto sfumatura a quattro colori di default appare così genera sostanzialmente quattro colori che voi potete personalizzare a vostro a vostro piacimento vedete questo è nero questo lo facciamo non so lo facciamo blu questo lo facciamo rosso e infine questo lo facciamo magari verde ok vedete che ho generato quattro colori e qui potrete dire nulla di interessante però giocando con i metodi di fusione per esempio potete ottenere delle cose un po' più artistiche ora l'utilizzo pratico di questo effetto è veramente molto limitato no però se non so vi viene richiesto di creare una un qualcosa di cromaticamente particolare di giocare un po' con i colori con gli effetti ecco sapete che avete a disposizione questi strumenti che vi permettono in qualche modo di lavorare ancora di più con la vostra fantasia e generare delle cose carine ripeto tutto quello che ha un cronometro è animabile quindi io posso non so partire da questo colore accendere il cronometro spostarmi un po' in avanti e questo verde farlo diventare rosso o arancione per esempio quindi vedrete in questo caso un'animazione che va dal verde al rosso in questo angolo in basso a destra e vedete che tutto cambia ecco questa non è una vera e propria color correction parleremo della color correction più avanti in questi tutorial sono semplicemente ripeto strumenti che potete utilizzare per arricchire le vostre possibilità a seconda di quella che è la vostra fantasia e ovviamente di quelle che sono le vostre esigenze mi fermo qui con questo tutorial nel prossimo tutorial parleremo di una tecnica molto utilizzata oggigiorno quando dobbiamo lavorare dei video cosiddetti verticali se andate su internet su youtube trovate tanta gente che realizza dei video con il cellulare e invece di ruotare il cellulare in orizzontale lo mantiene in verticale e il risultato sono dei video sostanzialmente cosiddetti verticali vale a dire che non coprono tutto il nostro frame ma che sono semplicemente focalizzati in verticale al centro vedremo come possiamo togliere quel nero fastidioso e rendere un attimino creare una cornice magari più carina a questi contenuti cosiddetti verticali vi ricordo il mio sito internet www.fabbiambrosi.it se volete avere l'elenco di tutti gli argomenti che abbiamo affrontato fino ad oggi e anche degli argomenti che affronteremo nelle prossime lezioni dei prossimi tutorial del corso di montaggio video con Adobe Premiere se vi fa piacere ovviamente parlate di questo corso ai vostri amici o a chi sapete essere interessato al mondo del montaggio video e chiaramente iscrivetevi a questo canale youtube perché così potrete sempre essere aggiornati sui prossimi tutorial che rilascerò di qui ai prossimi mesi non vi posso promettere che lo farò con costanza giornaliera o settimanale ma vi prometto che tutti gli argomenti e forse anche qualcuno in più che sono elencati nel sito internet fabbiambrosi.it verranno toccati da qui entro la fine dell'anno quindi abbiate pazienza commentate se avete domande sia gli articoli sul sito sia questi video tutorial se potrò vi risponderò nel minor tempo possibile altrimenti ci saranno magari anche altri utenti esperti che vorranno dare il loro contributo rispondendo ai vostri dubbi ai vostri quesiti per adesso grazie mille buon proseguimento di giornata al prossimo video tutorial ciao